Dieci anni di condanna sono stati chiesti dalla procura per il noto commerciante Sandro Pesce. Arrivano le richieste di pena anche per altre sei persone nel processo per la bancarotta della Margan SRL, una società attraverso la quale l'imprenditore gestiva diversi negozi di abbigliamento molto conosciuti in città. Chieste anche tre assoluzioni. Le accuse contestate sono a vario titolo di bancarotta, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e favoreggiamento. Nel dettaglio il pubblico ministero ha chiesto la condanna a dieci anni per Sandro Pesce, sei anni e sei mesi per Vittorio Quagliata, cinque anni e 3.000 euro di multa per Gaetana in Ferrera, cinque anni per Margherita Bagnoli, un anno per Giancarlo Restuccio e due anni per Luigi Giannetto. Chiesta invece la soluzione per Rosa Maria Zocca, Maria Ferrara e David Remedios. Al centro del processo l'inchiesta avviata alla procura nel 2011 che contestava al commerciante di aver distratto beni per oltre un milione di euro, togliendogli dalla Margan fallita nel 2008 ai danni di creditori e dipendenti. Gli accertamenti e la Guardia di Finanza proseguirono portando poi anche al sequestro di diversi beni.